500 le cessioni di cocaina documentate, droga rigorosamente di primissima qualità e consegnata al domicilio di imprenditori, commercianti, liberi e professionisti del territorio aretino. Questo hanno documentato le indagini condotte dai carabinieri di Arezzo, San Giovanni Valdarno, Bibbiena e le unità cinofile di Firenze, facendo scattare le manette ai polsi di sei pusher che operavano nel capoluogo e in provincia. A Arezzo, Talla e Montevarchi, qui i carabinieri hanno eseguito nelle ultime ore le misure cautelari che si aggiungono alle altre cinque persone arrestate in flagranza di reato. E così l'arma assesta un colpo importante all'attività di spaccio con un'operazione portata avanti dal febbraio a luglio 2017 che ha permesso di ricostruire una fitta rete di albanesi ed italiani. A capo dell'organizzazione un sorvegliato speciale che aveva già l'obbligo di soggiorno e che comunicava con i pusher attraverso utenze telefoniche Fantasma intestate a nominativi inesistenti. Così riceveva gli ordini, animalacci, il termine in gergo per indicare lo stupefacente e sfuggire ai controlli. I clienti erano disposti a pagare fino a 60 euro per una dose, solo cocaina di primissima qualità, meglio se consegnata a domicilio. Grazie. Grazie.